Passiamo a questi giovani, passiamo all'Istituto Focaccia di Salerno e al loro progetto, Francesco Visconti e Pierangelo Fiumari. Chi parla di voi? Allora Francesco Visconti. Prima cosa salve a tutti, sono Francesco Visconti dell'Istituto Basilio Focaccia di Via Piundicesimo, branco informatica, indirizzo informatica e il progetto che abbiamo presentato quest'oggi è una chiavetta intelligente per così dire che prende il nome di Song Qui. Song Qui è un nome che abbiamo scelto poiché si riferisce anche molto alla frase in dialetto Sono Qui, Song Qui. Questa in effetti è l'idea base per il titolo di questo piccolo progetto. L'idea originale in effetti è piuttosto simpatica, ci è venuto in mente poiché un nostro professore che per distrazione o per altri motivi non riusciva a trovare una sua penna, ci ha dato l'idea, questa molla per poterci anche, per poter progettare questa penna, per poter pensare a un modo per non far scordare questa penna USB al nostro professore. Perciò come abbiamo detto precedentemente, questa penna, questo piccolo oggetto è composto da due componenti principali, un trasmettitore che è presente all'interno della piccola penna USB e un ricevitore che invece, come che sta tenendo in mano il mio collega, un ricevitore che è contenuto all'interno di questa scatola che l'utente dovrà portare in giro con sé. Questo progetto, oltre ad essere nuovo del suo genere, ha anche alcuni aspetti particolari nuovi. Primo tra tutti è il modo in cui la chiavetta viene... la sorgente dell'energia della chiavetta, poiché infatti essa prende l'energia dallo stesso collegamento USB con il portatile o con qualsiasi altro PC e quindi non necessita di batterie esterne. Il secondo aspetto fondamentale, particolare, è il modo in cui questo dispositivo riesce a diminuire anche gli effetti nocivi causati dai campi elettromagnetici, poiché il campo elettromagnetico prodotto dalla comunicazione di questi due oggetti ha una frequenza che è persino minore rispetto a quella prodotta da un normale smartphone. Oltre a questi due dispositivi principali è presente un buzzer all'interno del ricevitore che si metterà a suonare ogni qualvolta l'utente si sposterà fin troppo, ecco come potete sentire, fin troppo dal punto in cui la chiavetta è inserita e perciò riesce ad avere la sorgente di energia. Questo progetto però è un work in progress e quindi se riuscirà ad avere abbastanza successo e verrà recepito anche abbastanza bene si potrà migliorare il tutto grazie a un progetto chiamato ingegnerizzazione e quindi non solo avere accesso a materiali migliori logicamente ma anche a rimpicciolire gli stessi materiali per renderli utilizzabili non solo su una qualsiasi chiavetta o su qualsiasi PC ma anche per qualsiasi situazione. Proprio a proposito di quest'ultimo una situazione ipotetica ma anche molto importante di cui bisogna pensare è in effetti l'aiuto che un tale progetto, un tale dispositivo potrebbe offrire ad esempio alle persone anziane poiché anche a causa della loro età possono perdere più facilmente degli oggetti. Questo in effetti è tutto, un saluto da parte dell'istituto Basilio Facaccia. Io volevo fare una domanda, scusami. Francesco volevo sapere quanto tempo ci hai voluto per costruire, per realizzare. Considerando che l'idea purtroppo ci è venuta anche in questi ultimi tempi ora nel mese di maggio anche considerando la nostra il nostro bisogno di prepararci per gli esami sia scritti che orali ci ha dato anche poco tempo per poterci lavorare perciò due tre settimane massimo. Quindi anche in tempi è velocissima. Infatti potrete notare dal ricevitore che è anche un po' spartano come appare a due viti su quattro per garantire la possibilità di tenerlo chiuso, di tenerlo solido e anche dei fori praticati a mano per poter permettere al suono di essere sentito normalmente senza che... È un prototipo, è un prototipo. Esattamente, esattamente, come ho detto prima, è un prototipo. Complimenti. Insomma, vi dovrebbero promuovere anche senza fare gli esami a questo punto. Magari, però, perché sarebbe più giusto. C'è un professore da qualche parte. Fare gli esami, si intende. Diciamoglielo. Il premio vi assegnerà la promozione d'ufficio. Parliamo col presidente Maccavo, vediamo se riesce a fare qualcosa. Grazie ragazzi. Grazie a Francesco Visconti, a Pierangelo Fiumari. Grazie a tutti.